E' stato un Natale pieno di eventi, quello appena trascorso sull'isola d'Ischia, per la felicità di ischitani e turisti che di sicuro non si sono annoiati. Dalle sagre enogastronomiche approntate per le vigilie di Natale e Capodanno ai concerti gospel, dai presepi viventi di Campagnano, Forio e Panza all'itinerario presepistico che ha interessato tutta l'isola, dalle piste sul ghiaccio di Ischia e Casamicciola alla gara di corsa del 31 dicembre a Forio, non è mancato proprio nulla nel carniere festivo isolano. L'isola si è accesa a festa e i turisti l'hanno premiata, scegliendola come meta per le vacanze invernali. Certo, una spallata di incoming ce l'ha data anche un po' la paura di viaggiare lontano a causa degli attacchi terroristici targati ISIS, ma tra le mete italiane, ovviamente dopo le città d'arte, l'isola si è piazzata bene registrando nel comune di Ischia anche un overbooking nella settimana di Capodanno. Tutto va bene, madama la Marchesa, diceva una vecchia canzone. Beh, per la verità, non proprio tutto. Perché se è vero che l'isola si è fatta trovare vestita a festa, sotto il vestito qualche magagna c'è stata, è anche un po' pesante. Non siamo noi a dirlo, ma gli stessi turisti che hanno puntato l'indice sulle varie strade chiuse per i lavori, sul traffico eccessivo e soprattutto sulla piaga d'Egitto dell'isola, i trasporti pubblici. Oltre ai soliti problemi di eabus e compagnie marittime, quali il caro ticket, l'inadeguatezza dei mezzi, eccetera, quello che ha colpito sfavorevolmente i turisti è stato lo stop di Natale e Capodanno, quando le corse dei Pullman si sono fermate nei pomeriggi del 24 e 31, riprendendo solo la mattina successiva e gli Aliscafia, Lilauro e Snav non hanno effettuato il servizio il 25 dicembre e il 1 gennaio. E quindi forse bisogna meditare sulla presunzione di fare del turismo invernale senza essere preparati, senza essere in grado di offrire a chi viene in vacanza una mobilità pubblica decente per mare e per terra e un territorio senza cantieri aperti.